Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere come inserire all'interno della piattaforma MetaTrader 4 l'indicatore DevaFrame e l'expert advisor AutoDevaFrame. Allora, una volta appunto sottoscritto uno degli abbonamenti disponibili nella sezione software del sito formazionetrading.com, riceverete una mail dove in allegato troverete 4 file. Due relativi appunto, uno relativo all'indicatore DevaFrame, uno relativo all'expert advisor AutoDevaFrame e altri due file che saranno da inserire nelle librerie come vedremo tra un attimo. Andiamo quindi sulla MetaTrader, dopo aver messo per esempio sul desktop o comunque un altro posto comodo sul computer i file ricevuti via email, andiamo sulla voce file, apriamo la cartella apri scheda data ed ecco qui, andiamo a cliccare su MQL4, a questo punto andiamo nella cartella Libraries, Librerie, ed andiamo ad trascinare all'interno if2 file, appunto, MQL7276 AutoDevaFrame e MQL7275DevaFrame. Ora torniamo indietro cliccando su questa freccia che ci riporta nel menu precedente e ora andiamo su Indicators, apriamo la cartella ed in questa cartella andiamo a trascinare l'indicatore DevaFrame, cliccando col tasto sinistro trasciniamo, quindi senza lasciare andare il tasto sinistro, trasciniamo il file all'interno di questa cartella. Torniamo al menu precedente con questa freccia e apriamo la cartella Expert, andiamo a questo punto a trascinare, sempre come prima, cliccando e tenendo premuto sul tasto sinistro del mouse, andiamo a trascinare questo file all'interno della cartella Expert Advisor, possiamo adesso chiudere questa cartella e ritornare sulla nostra piattaforma MT4. Andiamo nel menu di sinistra sulla voce Indicatori, clicchiamo con il tasto destro del mouse e clicchiamo su Aggiorna. La stessa cosa la facciamo con la voce Consiglieri Esperti, clicchiamo con il tasto destro del mouse e clicchiamo su Aggiorna. Benissimo, a questo punto l'indicatore e l'Expert Advisor sono stati inseriti, perfetto, a questo punto andiamo come prima cosa ad inserire l'indicatore DevaFrame, lo vediamo qui, lo clicchiamo, lo selezioniamo con il mouse e tenendo premuto portiamo questo indicatore sul grafico. Ecco che si apre questa finestra dove andremo ad inserire i parametri che preferiamo all'interno appunto di questa tabella, dove abbiamo il frame 1 e il frame 2, andiamo sulla voce Comune e selezioniamo Permetti importazioni di LL. Clicchiamo su OK e a questo punto apparirà l'indicatore DevaFrame al di sotto dei prezzi. Perfetto, a questo punto possiamo andare ad inserire l'Expert Advisor, con lo stesso procedimento selezioniamo e trasciniamo l'Expert Advisor sul grafico. Ecco che qui si apre la consueta maschera, ecco qua, dobbiamo permettere la compravendita in tempo reale se vogliamo che appunto il software operi in automatico e anche in questo caso permettere le importazioni di LL. A questo punto concentriamoci sulla tabella dei valori, che sono il vero cuore del sistema, che ci permetterà di far lavorare appunto il nostro Expert Advisor secondo i nostri canoni e ci permetterà anche di fare i backtest. E poi vedremo come fare. Ciclo continuo, se lo inseriamo come true, quindi vero in inglese, sta a significare che l'Expert Advisor non ha degli orari di lavoro. Se invece vogliamo fare in modo che l'Expert Advisor abbia degli orari di lavoro, per esempio qualora volessimo che operasse solamente in intraday, magari da un determinato orario fino ad un altro, inseriremo false, falso, e inseriremo appunto l'orario di inizio e l'orario di fine a cui vogliamo far lavorare. Cominciamo a farlo lavorare come ciclo continuo. A questo punto dobbiamo decidere se l'Expert Advisor dovrà operare a rialzo o a ribasso, e in questo caso andando ad abilitare con la voce true, quindi vero in inglese, il long, e false, falso, la voce short, il sistema opererà solamente al rialzo. Andiamo ad abilitare anche la voce target stop, che messa su true, quindi vero, va ad abilitare la possibilità di inserire un target e uno stop. Andiamo ad inserire il target price, in questo caso in punti, poi vedremo appunto che dovremo fare una piccola modifica a seconda dello strumento sul quale andremo a lavorare, per esempio vogliamo 50 punti, con uno stop per esempio di 25. A questo punto abbiamo la voce point max loss, in questo caso potete decidere una perdita massima che il sistema può consentire, in questo caso possiamo lasciarla così, e qui abbiamo frame 1 e 2, che sono gli stessi parametri che avevamo settato per l'indicatore, quindi in questo caso lasciamo di default 12 e 20. La size, ovvero la quantità dello strumento che andremo a negoziare, in questo caso stiamo lavorando sul DAX, quindi 1 significa un lotto di DAX. Se andiamo a fare, a inserire 0.1, faremo appunto una porzione di contratto. Point trailing e point trailing stop, per il momento possiamo settarli su 0. Cliccando su ok, l'indicatore, scusate l'expert advisor viene inserito. Vediamo però in alto a destra che la faccina ancora non ride, la faccina ride nel momento in cui l'expert advisor è attivo e funzionante, infatti dobbiamo abilitare l'auto trading con questo tasto. disabilitiamolo momentaneamente perché dobbiamo vedere se abbiamo inserito il numero di punti come target e stop corretto. Infatti, se andiamo nella voce consiglieri, possiamo vedere che nel momento in cui carichiamo l'expert advisor, nella voce consigliere appunto, nel diario dei consiglieri, ci viene indicato quello che è il punto secondo questa metatrader che stiamo usando. Vi faccio notare che questo dato cambia da broker a broker, da metatrader a metatrader, quindi fate sempre attenzione. In questo caso, un punto per il DAX è inteso 0.01, quindi dobbiamo vedere quanti 0 sono presenti in questo numero, in questo caso 2, di conseguenza possiamo tornare sulle caratteristiche del nostro expert advisor cliccando con il tasto destro qui sul grafico, consiglieri esperti, proprietà e molto semplicemente, se vogliamo un target appunto sul DAX di 50 punti, dovremo inserire altri due zeri, che nient'altro sono che questi due zeri che vediamo qui. La stessa cosa vale per lo stop, dobbiamo aggiungere due zeri. Ecco fatto. A questo punto possiamo cliccare su OK, abilitare il trading e il nostro expert advisor è funzionante. Infatti la faccina in alto a destra ride. Come sapete, l'indicatore DAVAframe e in particolare il sistema di trading auto-DAVAframe non è semplicemente un trading system, ma ognuno di noi può attraverso i backtest sperimentare nuovi parametri, nuovi settaggi, nuovi time frame e nuovi strumenti per trovare il trading system che più è adatto al proprio stile di operatività. Come si fa a fare un backtest? È molto semplice, perché basta cliccare su questa icona tester strategia e ci si aprirà appunto la schermata dove possiamo andare a testare appunto il nostro sistema. Selezioniamo il sistema auto-DAVAframe, selezioniamo lo strumento, in questo caso Germany 30, quindi il DAX, l'indice tedesco, selezioniamo il time frame su cui vogliamo fare un backtest e a questo punto possiamo o semplicemente testare dei parametri singoli, diciamo, quindi in questo caso vedete, ho cliccato su proprietà esperte, posso decidere il saldo iniziale del conto e posso appunto decidere i parametri qui nella colonna valore del point target, dello stop, del frame 1 e del frame 2. ok? Quindi cliccando su ok e dando il via, cliccando su avvio, avrò un backtest di quello che è appunto il risultato dei parametri che ho inserito. Esattamente come in ProRealTime c'è la possibilità di effettuare un'ottimizzazione, quindi clicco ottimizzazione, clicco su proprietà esperte e in questo caso selezionerò le voci che voglio ottimizzare, in questo caso abbiamo il target, lo stop, il frame 1 e il frame 2 e andrò ad inserire il valore iniziale, sempre ricordandoci di inserire gli zeri che troviamo nel diario dell'expert advisor relativi al prodotto che stiamo negoziando, quindi in questo caso mettiamo se io volessi far provare all'ottimizzatore del tester strategia un target che vada da 50 punti di DAX fino a 100 punti di DAX dovrà inserire 50 più i due zeri a questo punto abbiamo la parte alta quindi il numero il target massimo che voglio testare in questo caso possiamo inserire per esempio 150 punti ok e ricordarci sempre di inserire anche i due zeri ricordo che questa caratteristica cambia da metatrader a metatrader da broker a broker in questo caso scegliamo il passo ovvero l'intervallo a cui verranno fatti i test se io volessi inserire un intervallo di 10 punti mi devo ricordare anche in questo caso di inserire i due zeri cosa serve questo passaggio che abbiamo appena visto serve per fare un backtest molto completo che ci restituisca nel momento in cui vado a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto adesso anche per lo stop per il frame 1 e per il frame 2 la miglior soluzione ovvero i migliori settaggi che restituiscono il miglior risultato per lo strumento ed il time frame che abbiamo deciso di studiare perfetto possiamo chiudere il tester strategie e a questo punto siamo pronti per cominciare ad utilizzare l'indicatore devaframe e l'expert advisor auto devaframe buon trading a tutti e l'expert